Meghan Markle e Harry d'Inghilterra si sono sposati lo scorso 19 maggio in un royal wedding, che è stato chiacchieratissimo, e di cui tuttora si parla. Per esempio si è parlato di chi avrebbe accompagnato la sposa all'altare visto che tra i grandi assenti figurava proprio suo padre. . Ci si chiedeva, neanche a dirlo, come sarebbe stato il vestito di lei che, alla fine ha optato per un abito semplicissimo, anche troppo, realizzato su misura per lei da Givenchi. . A molti la scelta di quell'abito tanto castigato non è piaciuta. Però è questione di gusti. . E non si discute sul fatto che Meghan, nel giorno più importante della sua vita, fosse davvero bellissima. . Già da prima del matrimonio, poi, girava alla voce che lei fosse incinta, voce che sembrò confermata nel momento in cui i due fecero sapere che non sarebbero partiti subito per il viaggio di nozze. . . Meghan e Harry avevano scelto la Namibia, ma poi hanno deciso di rimandare il viaggio. . Subito si è pensato, che lei fosse incinta.L. Namibiano è certo il luogo adatto per una donna indolce, attesa così la voce della gravidanza si è fatta più insistente. . Per il momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali, e quindi non ci resta che aspettare il momento giusto che non sarà lontano. . Meghan è proprio una ragazzina, e, se vuole mettere su famiglia, deve iniziare quanto prima. . Ma è possibile che l'erede di Harry non arrivi mai? En, punto e oltre a quella di una gravidanza, gira anche un'altra voce. . . Voce che vuole, che Meghan e Harry siano già in crisi? Che cosa? Ma se si sono appena sposati, si tratta di rumors che si sono scatenati per la decisione di Bucingham Palace e di vendere l'anello di fidanzamento della Markle. . Oddio cosa state dicendo? Calma! In realtà non si tratta dall'anello originale dal quale Meghan non si separa mai, ma di copie realizzate per i turisti, e che è possibile acquistare spendendo 35 euro. . Gli anelli, infatti, sono in vendita presso il negozio Ter Royal Collection oppure nelle shop della famiglia reale. . . . E infatti Meghan e Harry non sono affatto in crisi. Anzi, sono sempre più uniti e innamorati. . E visto che non hanno fatto il viaggio di nozze, approfitteranno del soggiorno in Australia per ritagliarsi del tempo da poter trascorrere insieme. . . Dal 16 al 31 ottobre i duchi del Sussex, faranno il primo tour ufficiale in Australia in occasione degli Invictus Games a Sydney, e poi tra le varie tappe si fermeranno a Melbourne, Fraser Island, Wellington, Auckland. . . La coppia si fermerà a Melbourne, Fraser Island, Wellington, Auckland ma tra il 23 e il 25 ottobre non hanno impegni ufficiale. . . . .